Venivano al bar in quattro persone a giocare a carte e stavano due o tre ore a giocare a carte per giocarsi poi quattro caramelle. Poi, con queste due che perdevano, non avevano nemmeno i soldi per pagare queste quattro caramelle, gli dicevo a mio padre di annotarlo, di fargli credito. Pagavano dopo, dopo c'è quattro ore che giocavano. E' meglio che non giocate che mi riconsumate le carte di quello che mi dovete dare. Che roba. Ma questo è verità.